Anna Modenese, la 14enne padovana colpita ieri da un arresto cardiaco mentre si trovava in classe a liceo Duca d'Aosta in centro a Padova. La ragazzina si era casciata a terra durante l'appello prima di cominciare le lezioni. La 14enne era stata quindi subito soccorsa e ricoverata nell'unità di terapia intensiva con oro Annika nell'ospedale di Padova. Ma nonostante l'impegno dei dottori per lei non c'è stato nulla da fare. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale questa mattina e dopo sei ore previste dal protocollo alle ore 14, non avendo rilevato nessuna attività cerebrale, hanno decretato in modo definitivo il decesso della giovane. Ora sarà l'autopsia a fare luce sulla causa della morte.